Tedawella ruadu moukhaa tawassi l'agitamaai video palamani itali hagama fihi ziareta ameera qatar ila italia wa talaba biwakfi tamuili qatar il gamaati il mutatarrifati wal fassai il musallaha fi libya wa suria Grazie, grazie presidente sull'ordine dei lavori temo di pur portando gli occhiali di aver visto correttamente lei poco tempo fa in quest'aula seduto come se fosse il padrone di Questallo unitamente ad un emiro che evidentemente ha una concezione diversa della democrazia voglio sperare e credere che lei al emiro abbia chiesto se è lo stesso qatar che finanzia l'integralismo islamico in Libia e in Siria voglio sperare che lei abbia chiesto al emiro garanzie in ordine al finanziamento delle moschee italiane dei centri islamici italiani che diffondono l'integralismo islamico voglio cioè sperare che lei ci possa offrire garanzia a quest'aula che lei ha difeso l'italianità e non ha fatto il tappetino degli emiri che finanziano l'integralismo islamico